La mia toccata e fuga in Veneto è già finita Sto tornando a Firenze In tutto ciò, io non ve l'ho detto Ma in questi giorni me l'ho messa la estension ai capelli Per fargli un po' di volume E ora le ho tolte, come si vede C'ho quattro spelacchietti Facendo una cura per renderli un pochino più presentabili Raga, in tutto ciò Prima che mi ammazzate di in su di questa cosa Che c'è intorno al colla di pelo finto Ovviamente l'ho preso da Zara a 10 euro Una cosa del genere Perché c'erano i soldi Una cosa al volo raga Per quanto riguarda il Mad Monday Volete che io vi parli di qualcosa in particolare O a voler i miei capelli A 19 si possono fare anche le storie su Instagram Senza i pregiudizi Comunque Comunque se avete un argomento in particolare Di cui avete piacere che io parli Ditemelo tutti i verbi giusti Che sennò poi i professori Comunque raga mi avete chiesto perché non sono andata alla Fashion Week Questa settimana e la risposta è semplice Priorità Cioè per me le priorità adesso sono altre E sono studiare perché ho la sessione invernale E ho ricominciato a studiare in maniera più costante rispetto a 6 mesi fa E quindi ho deciso di rinunciare ad alcune cose Perché si possono fare tante cose ma non si può fare tutto Ho fatto un giorno di pitti che mi è bastato Adesso vi volevo raccontare una cosa Mi sono accorto solo adesso di essere oscena Scusate ma Tanto c'è Simo che mi scrive Di essere oscena Ma stamattina la mia priorità appunto non era truccarmi Ma trovare un ristorante dove sfondarmi di scivo Vero Blazer? Trovato Si trovato Trovato C'è una cosa che troviamo sempre sono i ristoranti In quella che non sfiamo dal discorso Anzi che in realtà quello che vi devo dire è abbastanza coerente con il fattore dei ristoranti Nel senso che come se avete finite le vacanze di Natale Ho ricominciato la dieta Ho ricominciato ad allenarmi di brutto E sto vedendo già che mi sto risgonfiando rispetto a Natale e Capodanno Che sembrava un palloncino Bene Detto questo che cos'è che mi aiuta a sgonfiarmi e a tornare in forma? Prima di tutto Io ho sempre parlato delle mie Pure Glow di Natural Motion Perché vi dico Pure Glow raga? Perché?